E' schifo questo! E' schifo questo! E' schifo! Eh mamma, metti pausa! Che bagno mica eh! Oh come senti! Sto passando a little net, Mary Gublori, stai andando a me! Ciao! Allora condivisione, condividi schermo. Abbiamo condivisione schermo. Anzi tolgo le cucci e parlo dal joystick così ti senti pure gloria! Parlano poco, parlo! Vieni! Ma vieni! No dico lo schermo, lo vedi? Eh devi accettare! Eh non accetti la condivisione schermo! Aspire! Abbiamo condivisione schermo! Vedi che vai nel party! B��! Buongiorno! Magari non se ne vanno a niente! E' che la cò? E' un indicatore! È un indicatore! Nooo! non lo so c'è che ragazza di vi e gira la manovella la manovella non l'era vista mi schifo ma a due l'ho detto si può giocare a due non si sente la pioggia? si sente la più basso ma che gira? sto girando non giri che puo' andava a colcare la cosa io che ne so devi mettere questo là dentro secondo me come si mangiava? eh Gu c'è la faccia di tassata si ce l'ha detto ma non salta quando tieni le cose in mano ce l'ho provato ma è pesante ce l'hanno dire no non c'è già mettere eh vedi il secchio no non è male eh c'è una nuova devi mettere dei falsicci alla bella come metti? perfizio sali un attimo arrampicati sulla manovella devi che si chiude quello? no ah lo amo devi macinare la falsiccia non è che devo fare tipo così no ma che fa? la va a girare e cioè che giro? la va a girare? no ti devi arrampicare sulla falsiccia ma non credi aspetta ah ti devi arrampicare ma non c'è lì e quindi c'è un problema di fondo devi prendere qualcosa ah ti devi dondolare fino a là secondo me e come faccio? questo non faccio perchè questo eh ma non va più di così nooo aspetta 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 che va sempre più la mia impressione no e che me fa? io non ti devi arrampicare due volte ma da voi ma come fa arrampico che ho pensato così? e ma non ti fa arrampicare qua? mamma mamma mia ma dovrei fare la cosa più stupida dell'universo ma dovrei no e qual'è la cosa più stupida dell'universo? devi entrare dentro qualcosa e come ci entri? no ci entri sei andato strunzata che sera l'eufra mi raffa proprio niente la vogliete azzecca è un momento è un momento è un momento perché voglio dire un attimo se riesco a mettere il suono del... del... del gioco perché non c'è il suono del gioco è tanto solo a te cioè vedete se riesco a sedere pure l'audio del gioco e non c'è un momento ma non c'è... questo è proprio l'universo questo è un momento è un momento che non c'è questo è un momento che è un momento non c'è è un momento per la cala ULUM andiamo in giù il coso ma tu n'irà arrivato a casa Sì. Ah, ma questo è poco poco più avanti. Non vuoi molto stare fette, stare fette. Mi fatti il disegnale. Io invece ho fatto tutte e quattro i nei, devo fare solo le belle. Non, ma il non è un po' attacca, è un po' attacca. Io salto in Zagreb. Che hai, hai, che hai, che hai, che hai. Non è un po' attacca. no 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 n'è niente è una presa per i fondelli ho qualche altra cosa questi giochi io non li appendo per l'ansia ma per questi io non sopra l'ansia ma non sopra l'ansia non sopra l'ansia ma non sopra l'ansia ma secondo me non devi salire la sua giocco ma perché non sale secondo me la mia qua secondo me la massaggio in coppia il lavaggio ecco Ma che cazzo devo fare? No, devi salire. E che devo fare? No, li dà. Li dà tu? Li dà. Ah, lo sciacca. Mi serve al mio. Cioè, ma faccio lungo i passi, posso? Vediamo. Ma secondo me deve far cadere quello. E' qui, e' qui. Ma com'è fatto, frato Marletto? Aspetta, vediamo proprio chi suizia. Eh, penso dopo, oppure per farti vedere che è morto l'ognolo. No, può essere pure che devi fare qualcosa dopo. Comunque, hai la città lei, tengo solo si... Cioè, devo fare solo le belle delle quattro store, là. Eh, ma io ho già fatto... Ah, hai capito che devo fare la salsiccia? Quindi dà lì, là. Eh. Sì, certamente. Eh, ma prima cosa tu non sbagli sempre. Poi mi ingrippò. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. il palmeno inchinatemi signori la cosa la cosa la cosa perché la cosa grazie davvero insomma trova la chiave per cavi e chi deve muovo Amore, ti devi nascondere dentro una cosetta qua, vedo presto, vedo presto. Cazzo. Cazzo. Il senere è nato, non è... Ma è chi? Te la faccia di persa. Non vai. Devi nasconderti dentro quel po'. È proprio... Oh. E dai, dai. Oh, è che si è un massimo che riesce a fare, chissi. Non lo riesce a fare, non so, appena sono a chissi. Oh, amami. Dicevo. Sì. Non so, mi chiedi le moore, non so. Oh, è foda. Furi Zlatan, corre! Eh, I'm going to come and ask him to do it. Esatto. Bacchè, non si muovono già, no? You don't have to know. Eh, calma. Non potevo mai di chiacca. Non potevo mai di chiacca. Esatto. Non si fottisce. Ti amo, tu fai dieti e si fottisce a casa. Oh, oh, oh. Eh, beh, ma che devi fare? Hai saputo che la ciava? Ah, oh, oh. Oh, oh, oh. Oddio. Oh, oh, oh. Eh. Varo, che schifo. Che sta tenendo un bagno qua, eh? come fai? come fai? non è tranquilli come fai? come fai? vai a fare il tavolo vai a fare il tavolo non fai i buratti è una salsic che scivoli quando va lui non mi amo appena si gira devi andare sul tavolo non mi vado a mettere l'ansia vai 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 siamo sicuri che dobbiamo andare là e che vado a fare la scuola? si fa qualcosa di grande ma quando va la scuola? io edy c'ho un bottone ma quando va la scuola? si e poi ti metti in subito dell'agile eh bravo si è in fuio e vai a prendere la chiave vai ma roma vai a prendere la chiave attenzione è lui prendila prendila fuio metti 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 vai 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 prendila ascensore e fu vieni mamma mia che paro io per c'è non posso mai giocare io gli guarda getto mai unmother ora Aspì, ora penso che devi fare qualcosa là, no? Lo proviamo, ma non penso Fagli un po' a mano Eh, vedi, da gitto Ma io sono troppo energetico Secondo me è un portafortuna Sì, tu mi hai fatto niccare, no? È un muovissoso Ma è un muovissoso Chissi No, ma non te la fai muovere Ma non faccio muovere, ti puoi arrambicare Secondo me... Ah, no, ti puoi arrambicare È lungo Eh E lei Ah, eh, oh Eh, che sai com'è? Che braccio è lungo Mamma mia Ah, così stavo lavando? C'è un aiutante Ma ti ho detto che non era Che n'era un altro E beh, che c'è qua? Già, c'è la spazzanza Ah, poi, quando siamo qua? Ah Non posso andare là Ehi, però non è che si è buggato Non si alza qua Vedete che mi fa alzare là? Ehi Non ci si alzare? Non ci si alzare là Non ci si alzare è in realtà In realtà Non ci si alzare Non ci si alzare E il loro ma non ce la faccio arrabbiare non ce la scelto faccio fuori e come cazzo faccio a posto di nuovo qua a posto a posto wow ma vissi Allora, io quando lo chiamo, dice io dove mi devo arrabbicare, facendo un po' capi. E poi hanno una maschera, non so, così veramente. No, c'è una maschera. No, c'è un po' capi. E' bene questi cani. Eh, però mamma capìa rosa, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non lo so, non so, non so. Facciamo che c'è una moccada. E' inculata, c'è la biglia. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. eh per un nuovo filo questa capita dove arrivano i cani, hai capito? no, ora devi salire verso le piante qui ma questo non è tutto qua? eh ma chi si chiama vero? non hai capito? secondo me devi arrivare sui piatti in là qua? in là, sul tavolo io già arrivano qua eh sì, l'abbiamo arrivato solo qua eh raggi eh ma non ho capito l'importante è che abbiamo capito basta che abbiamo capito io ho capito, non tu questa è una bozza ma facciamo una bella c'è una volta qua eh ma bella qui c'è una maschera, vedi? si e ma c'è se è buccato lungo ma non è un po' perché cos'è il grasso? non è un basso perché cos'è il grasso? fuggi fuggi nooo 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 secondo me puoi stare pure sui loro tavoli aspetti che c'è all'interno non è un po' non è un po' non è un po' non è un po' ma non c'è qua qua ma c'è un po' frate si vede proprio ci penso e gira a manovella ma non mi prende più ma non mi prende più ci volata attenzione oddio oddio no ma è impossibile no ti devi arrampicare là al momento che quello ce ne va ti devi arrampare sulla cosa sei ancora in onda adesso aspetta no no ma non ci arrampicare non oppure sui piatti sui piatti secondo me eh sui piatti si provami da qua non c'è grave ok allora devi andare giù la non mi lasse eh non c'è ma chi correre eh chi li chiudessi non correre vai ce la fai ce la fai ok vai no ma ti devi ah 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 attenzione attenzione è lui 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 scivolata come fuoco ma fuori ma fuori è ho capito sta correndo più di queste non correre quale ha un ponte oh ok eh hurufan hurufan ah ok no ma che fa no ma mi fa ripartire da qua per forza no io non penso no abu ma l'abbiamo fatto lo facciamo pure adesso scivolata attenzione è lui ok abu vai piano poi infamma perché devo tenere premuto il tasto r2 altrimenti lascia la presa capito no la cucina un altro sei sicuro ciao 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 ciao